No, fratimo! Lamborghini fanno... Lamborghini fanno... Lamborghini Tarnalo, come sei stato? Come stai, fratimo? Fatelo, ci siamo quasi, eh! Aspetta che ti sento poco, che c'ho la macchina... Mi sento stato Instagram, ma tutti più in diretta, siamo la storia, frà! Dico... Non sento un cazzo, frà! Aspetta, mo ti scrivo! Eh, sì, bravo! Basta poco! Aspetta, Nico! Eh, oh, non sentivo niente, frate! Ero attaccato al bluetooth, frà! Ero attaccato al bluetooth! Ero con il bluetooth nella macchina! Eh, come stai, fratimo? Come stai, bro? Ah, regà, io e Nico... io e Nico abbiamo una bella sorpresa, vero, frà? Sì, sì, fra fine mese, facciamo una bella diretta, lo spoileriamo un po' insieme, no? Una bella sorpresa! Bravo! Bravo! La bambina, come va? La piccola? Bene! Ragazzi, sai, d'ha fatto la prima strofa che parla della bimba con me? La prima! Sì! Sì! Mi ha detto, sai, d'ha fatto la prima strofa che parla della bimba? Con me! Con me! Esatto, è vero, è la prima! È la prima! Comunque, fratellino, ti voglio bene! Ti auguro una buona giornata! Dove stai? Dove sei la settimana? Sì, sì, ti faccio dopo, ti scrivo su WhatsApp e ti faccio sapere il giorno prima! Dai, è perfetto, frà! Grande! Ti voglio bene, fratellino! Salutimi il pari interno, di qua! Ti voglio bene, frà! Un bacio! Sì, regalo, avete capito bene? Facciamo una sorpresa, i giorni! Fai a me, fai pure la barba dopo, però! Sì! Ma vabbè, sennò quella, tanto dopo faccio la doccia, ma faccio io! Oh, regà, siete state in zona, Marconi! Dovete venire da mio fratello Samo! La via, questa qual è? Via, Luca Valerio! Rocca Valerio! Luca Valerio! Via, Luca Valerio numero otto, regà, si deve servere il fresh cut!